Questioni più tecniche che altro. Benvenuti, vi ringrazio per la presenza, per la partecipazione. Alcuni di voi ci siamo visti anche lunedì dove abbiamo introdotto la mia candidatura e quella dei ragazzi che sono dietro di me, che fanno parte della squadra di Stienta Tuo. Come ho detto l'altra volta, il ricordo di questi cinque anni, che ovviamente sono freschi, sono freschissimi, mi ha portato a dire, ad anticipare un po' la presentazione degli amici che con me hanno condiviso questo cammino. Mi ha portato a parlare appunto di come abbiamo voluto essere il più possibile un'amministrazione del fare. Infatti io le persone che vedete qui dietro, nella maggior parte dei casi, perché ci sono un paio di novità che vi ho descritto l'altra volta e che oggi non riesco a presentarvi, cioè non riesco a far parlare tutti e due perché Davide Maghini per un imprevisto, un problemino, questa sera non è con noi. Però vi dirò io due parole anche su di lui. Poi questa sera manca anche Rolando Barufaldi, poi gli altri li sentirete dalla loro viva voce. Come dicevo, io e queste persone, la maggior parte di queste persone, abbiamo condiviso questo cammino, questo cammino che è durato cinque anni, qualcosa di più a causa del Covid che ha fatto spostare l'appuntamento elettorale. Abbiamo condiviso un approccio il più possibile fondato sul fare. Ognuno di queste persone ha ovviamente la sua personalità, le sue sensibilità, ha il suo modo di pensare. Ma, come dicevo, anche lunedì in apertura, ognuno di loro, pur non rinnegando mai quella che è la propria idea, magari anche il proprio impegno, in altri ambiti, anche che possono essere più o meno politici, alla fine non è così perché nessuno di loro ha avuto particolari esperienze in questo campo, però è sempre tutto quanto sparito di fronte all'obiettivo unico, ovvero che ci siamo sempre dati, ossia il bene distinta. E quindi, in questo senso, abbiamo voluto procedere fin dal primo giorno, anzi, con alcuni di loro si era già condiviso un'esperienza importantissima, quella che ci aveva portato attraverso il 2014-2015 per arrivare al 2016, quando, grazie alla vostra fiducia, poi dalla regenza, sono passato ad essere il vostro sindaco perché ho avuto l'onore e la fortuna di essere il vostro sindaco. In quella fase abbiamo cominciato non solo a condividere un'idea, un progetto, ma in quella fase abbiamo iniziato a condividere veramente la nostra vita per il Paese. E proprio grazie alla loro forza, grazie alla loro tenacia, al loro supporto, mi è stato possibile accettare un incarico anche pesante, gravoso, perché, mi ripeto, per qualcuno che ha già sentito l'introduzione dell'altra volta, un giorno qualcuno mi dice che ha voluto la bicicletta. In realtà non avevo voluto proprio quella bicicletta, però, grazie a queste persone, ho potuto continuare a pedalare e a pedalare per il nostro Paese. Se non ci fossero stati loro, se non ci fosse stata questa unità di intenti, probabilmente nessuno avrebbe potuto accettare un carico del genere, dal momento che tutti quanti, ognuno con la sua estrazione, ognuno con le sue idee, ognuno con le sue proposte, nessuno aveva un'esperienza particolare, soprattutto dal punto di vista amministrativo, dal momento che nessuno aveva avuto proprio incarichi di nessun genere da questo punto di vista. Però ecco, quel momento là forse ci ha rinsaldato e ci ha dato invece la forza di metterci anche più del 100%, e da lì è partito un percorso che ogni giorno ci ha messo nelle condizioni di non limitarci niente, di non eliminare alcuno sforzo, e quindi da quel punto siamo partiti con una forza incredibile che ci siamo dati anche l'un l'altro. Io l'ho trovata, l'ho sentita, l'ho sentita in loro, tant'è che tanti di quei compagni di viaggio sono ancora qui, che si ripropongono con me per dire, abbiamo cercato di dare il massimo, in tante occasioni lo abbiamo fatto, lo si è visto, ma per noi non è ancora niente. Noi siamo qui per dire, abbiamo ancora tanto da dare, e anzi siamo qui a chiedervi di darci la possibilità di proseguire ciò che è stato iniziato. Per l'introduzione di quello che è il nostro progetto amministrativo, che, ripeto, continua, vuole continuare, c'è da dire che ci siamo sempre guardati in faccia dicendo cos'è la prima cosa che dobbiamo fare. E come risposta ci siamo dati che la prima cosa che dobbiamo continuare a fare è dare l'esempio, perché credo fortemente nella forza dell'esempio, come grande propulsore delle grandi azioni anche di una comunità. l'esempio è fondamentale. L'esempio è quello sulla base del quale ogni bambino cresce similando ciò che vede e prendendo per buono ciò che gli si mostra. Ebbene, noi abbiamo capito che non potevamo, ed è così, perché non possiamo chiedere nulla a nessuno, a un giovane, a un anziano, a nessuno, nella comunità, a un'associazione. Non possiamo chiedere niente se noi per primo non siamo capaci di dimostrare che l'importante è dare tutto. E per questo non ci siamo mai tirati indietro, ed è per questo che io devo dire soprattutto grazie a queste persone, perché non mi hanno mai fatto mancare il loro appoggio, le loro capacità e anche la loro comprensione. io oggi farò parlare loro, non prima, di aver detto che il nostro approccio, come detto, non è e non è mai voluto essere legato a qualche forma di politica, di partitismo, perché, ripeto, nessuno ha mai rinnegato niente di ciò che pensa. Però tante volte quello che è un pensiero, altro in senso politico, non ha mai avuto niente modo di esprimersi. Questo si è tradotto in tutta una serie di atti che la nostra amministrazione ha fatto, dei quali mai nessuno si è potuto vedere in senso politico, né tantomeno assolutamente partitico. è per questo che abbiamo sempre voluto rivendicare che siamo qui per Stienta, perché noi immaginiamo e riteniamo che qualsiasi altro interesse, qualsiasi altra istanza, qualsiasi altra idea, tutto quanto, soccomba e debba soccombere di fronte all'unica cosa che ci interessa, ossia di fare il bene distinto degli stintesi. Ora, prima di passare a una rapida scoperta, del programma, magari del programma qualcuno già parlerà nell'introduzione di se stesso, una carrellata. L'altra volta sono stato anche un po' lungo, ma sono stato lungo perché di punti nel programma ce ne sono veramente tanti. E riuscire a dare solo qualche flash diventa riduttivo, perché effettivamente il nostro programma è costruito non solo sulla base dell'entusiasmo, della voglia, di scrivere un libro dei sogni, cioè di quello che vorremmo per Stienta, di quello che vorremmo presentare in questi cinque anni. in realtà non è solo quello, anzi, è più che altro la riproposizione di tanti pensieri che ci siamo fatti in questi anni, arricchiti ovviamente anche dalle idee che sono arrivate da chi è nuovo, ma è la trasposizione nel nostro programma di tutte quelle, di tutta quella voglia di fare quelle cose che ci sono rimaste ancora in mente e che non abbiamo potuto fare perché effettivamente ce n'era tanto, tantissimo da fare, anche e soprattutto per il fatto che abbiamo vissuto, direi, quasi due anni ormai, gli ultimi, non solo a gestire l'ordinario e non solo a progettare ciò che avevamo immaginato, ma anche a gestire una delle più grandi emergenze, forse sicuramente l'emergenza più grande della nostra storia recente. E quindi il lavoro si è raddoppiato, ma anche la loro disponibilità si è dovuta raddoppiare e quindi è stato un sforzo che però, pur facendoci fare una grossa fatica, ci ha unito ancora di più ed ecco perché quando io ho detto signori, ci ripresentiamo, chi c'è, nessuno di loro ha abbassato la mano. Quindi oggi sono qui, sono qui con me, poi descriverò io qualcuno che manca e darò supporto a qualcuno che mi ha già detto, fa, io non sono tanto portato a parlare, però non è mica un male, perché sotteso c'era che sono persone che sono veramente dedicate tutto il giorno a fare. Allora io adesso vi lascio con gli amici, oltre che colleghi dell'amministrazione attuale, che si ripresentano assieme ai nuovi. E quindi, andiamo in ordine alfabetico, io vi lascio questo microfono e partiamo da Giulia Barastoli. Buonasera, io ti ringrazio Enrico per questa opportunità e anche per l'opportunità della volta scorsa quando hai creduto in me e mi hai dato l'opportunità appunto di candidarmi e questa volta me la stai ridando. mi hai dato anche tanta fiducia perché quando ero appena entrata in consiglio mi hai affidato delle deleghe anche importanti e a volte sono stati argomenti molto spinosi, a volte c'è stato proprio da fermarsi in comune tantissime ore per lavorare con gli uffici, con la macchina e lì ho avuto anche l'opportunità di capire come funziona il comune, come funzionano gli ingranaggi del comune. Ecco, ti interrompo solo un attimo spero di non mettervi in difficoltà in questo ma proprio invece perché certi argomenti vanno legati e sono da legare subito. Consiglieri, assessori, tante volte per le persone la differenza non è così chiara normalmente ovviamente visto che la giunta è in realtà l'organo di governo e se vogliamo trasporre un po' il consiglio un po' come invece il Parlamento il consiglio è più un organo di controllo ma i consiglieri possono avere in determinati casi delle deleghe. Ebbene, la volontà proprio perché il gruppo era coeso e ognuno si fidava dell'altro e io in particolare avevo modo di fidarmi di tutti che tutti i consiglieri hanno avuto delle deleghe tutti i consiglieri sono stati coinvolti anche nell'azione di governo seppur per le loro specifiche deleghe ma nessuno di loro si è tirato indietro anche quando c'era da dare una mano anzi ho spiegato bene l'altra volta che addirittura un paio di loro ebbero fare un grande un grandissimo sacrificio proprio perché gli assessori della giunta sono nominati e quindi il giorno dopo il sindaco può anche revocarli e quindi perdono ogni diritto mentre i consiglieri che sono da voi eletti con la preferenza che andrete a mettere sulla scheda quelli non li posso revocare ebbene due di loro Riccardo e Marco ebbero fare un atto davvero grande di fede perché mi diedero la possibilità di mettendosi da consiglieri di rimanere tra virgolette solamente assessori ma questo ci ha permesso di aumentare il numero delle persone della squadra che vi venivano ad essere a disposizione del nostro paese e quindi due persone in più che hanno profuso ogni sforzo per noi per noi tutti prego vado ancora sono state deleghe importanti l'ambiente sicuramente è una delega fondamentale ai giorni nostri i rifiuti e poi c'è stato il caso West Isle è stato pazzesco perché ti sei trovato catapultato in una realtà ancora prima del covid però era già qualcosa di importante e lì hai visto la collaborazione fra tutti noi fra anche tutti i paesi tutti i territori si è creata una sinergia territoriale una sinergia fra amministratori ed è importantissimo ho proprio apprezzato tantissimo questo in più la cosa più bella che abbiamo organizzato sono state le giornate ecologiche e lì ho visto proprio il bene che hanno voluto le associazioni nostre ci sono le associazioni del paese che hanno lottato hanno spinto hanno portato quelle giornate a essere popolatissime hanno fatto veramente un miracolo perché le prime due giornate non c'era tantissima gente c'era un po' di affluenza ma quando abbiamo coinvolto le associazioni quando abbiamo iniziato a crederci davvero hanno spinto tanto c'erano 50 persone la protezione civile la proloco l'avis c'erano tutti ed è bellissimo vedere questo vero verissimo e di fatti devo dire che prima ancora di chiederlo Giulia come tanti di loro non sono mai venuti a dirmi ho troppo anzi se proprio abbiamo dovuto discutere è perché nella progettazione del futuro c'è la loro volontà la loro determinazione di fare e di fare ancora di più quindi al massimo se abbiamo discusso abbiamo discusso per questo quindi è un un buonissimo un buonissimo inizio questo di sentire che dietro c'è una squadra che vuole fare e che mi chiede spazio per poter fare quindi proposito per il futuro per dire a queste persone perché ti devono dare fiducia perché perché cinque anni fa avevo molto meno bagaglio oltre che amministrativo adesso si cresce si è visto come funziona la macchina adesso siamo ancora pronti e siamo pronti a dire che forti che forti che forti allora ha introdotto un ottimo tema nel senso che effettivamente all'epoca eravamo molto vogliosi molto volenterosi con grande entusiasmo con entusiasmo che non abbiamo perso e lo avete sentito però c'è la consapevolezza di poter dare ancora di più proprio perché forti di un'esperienza che all'epoca non avevamo e che adesso abbiamo maturato io in un'intervista all'amico Rovigatti ho avuto modo di dire che effettivamente questi anni sono stati pieni sono stati un'esperienza totalizzante e ho detto in alcuni casi come nell'anno della regenza quello fu un anno che da solo potremmo dire che ne avansi dieci perché è stato di un'intensità di un'intensità rara e maggior parte delle persone che ci sono qui hanno condiviso hanno sentito hanno sentito tutto ciò allora Rovando Barufaldi che è il secondo rispettando l'ordine l'ordine alfabetico appunto che non è che non è con noi che non è con noi questa sera però è sicuramente è stato continuerà ad esserlo se se vorrete premiarlo se vorrete premiarci con la vostra fiducia è stato come detto una sentinella è stata una sentinella nel paese perché è sempre stato pronto a recepire quelle che erano le istanze che venivano dalla piazza le istanze che venivano dalla strada e ci ha pungolato come giusto che sia per un consigliere ha pungolato noi che avevamo la possibilità poi andando in giunta di prendere quelle decisioni per approvare i progetti per lanciare le nuove idee e quindi è stato fondamentale questo suo ruolo ce ne sono diversi di loro che hanno fatto del rapporto con la gente veramente il valore aggiunto che si è sopputo cogliere e portare all'interno dell'amministrazione avrete modo anche di vederlo e di sentirlo perché poi comunque il mercoledì prossimo 22 faremo questa stessa presentazione però in località Zampine e poi qualche altro incontro dove avremo modo anche di confrontarci più in maniera in maniera diretta con voi dopo Rolando Varufaldi c'è Matteo Basci che chiamo qui con me intanto grazie Enrico perché veramente mi ha dato l'opportunità di riuscire ad entrare in consiglio perché insieme a Riccardo Malavasi e Marco Canchi sono riuscito ad entrare in consiglio perché ero uno tra quelli che se no non sarebbero potuti non avrebbero potuto avere questo tipo di esperienze e niente soprattutto hai colto il fatto che mi hai dato la delega dei sistemi informatici perché partivamo da cioè soprattutto la mia esperienza la mia esperienza amministrativa veniva da un forte stimolo stimolo che questa volta è merito di un candidato candidato dell'altra lista che allora era sindaco che spinto da una forte pressione dei cittadini ha fatto un incontro dove in questo incontro sostanzialmente veniva detto ai giovani che erano presenti che internet serviva solo per scaricare musica da lì ho detto bisogna fare qualcosa mi sono candidato consigliere con l'allora sindaco Cristiano Farazzari che mi ha dato appunto all'inizio la delega ai sistemi informatici e da lì abbiamo cominciato a costruire il sito internet l'abbiamo migliorato poi con la seconda esperienza e siamo arrivati ad avere anche la bene la 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 bulla e la banda ultralaera è stata una sfida importante perché alla fine sai bene cosa abbiamo dovuto abbiamo dovuto smuovere mari e monti perché tu parli di sistemi informatici la digitalizzazione ma il tuo ruolo è stato fondamentale anche nei rapporti con i soggetti che poi con i comuni si sono interfacciati in particolar modo per questioni fondamentali come è stata quella della BUN della banda ultralarga uno di quegli argomenti che poi tratterò in maniera più specifica successivamente ma che sicuramente avrà bisogno se la gente ci premierà del tuo apporto da questo punto di vista proprio per i legami che hai saputo intrecciare a quel livello che hanno fatto sì che Stienta abbia potuto essere uno dei primi uno dei primi comuni ad avere l'intervento fatto e finito e arrivato con con la banda ultralarga adesso viene il momento comunque di spingere e di gestire insomma un po' i legami con con la regione perché con la transizione digitale appunto dovremo ci avremo delle grosse sfide soprattutto per riuscire a intercettare col PNRR tutti i vari bandi che verranno fuori sfida che è già iniziata perché con gli uffici si sta facendo un gran lavoro in tema di digitalizzazione soprattutto per adeguarci alla normativa ma poi nascerà tutto il resto delle sfide per primo sicuramente sentiamo addosso sentiamo sulla pelle il problema che è rimasto e che anzi è diventato forse anche più visibile per le persone che fanno parte di quel 20-25% di territorio che non essendo stato considerato zona bianca cioè una parte di territorio che non aveva il servizio di internet diciamo così fisso ecco in quelle zone bianche cioè quelle non coperte in assoluto dal servizio OpenFiber ha potuto con questo piano nazionale regionale poter intervenire perché l'intervento era fondamentalmente a base pubblica e quindi è potuto intervenire dove non c'era nulla la normativa stessa è la legge che lo diceva che lo dice non ha permesso proprio a quell'operatore a quel gestore della rete di poter intervenire dove invece in quelle zone che sono denominate zone grigie ovvero in quelle zone dove in realtà un servizio c'è perché un operatore commerciale aveva già preso la zona e sulla zona aveva già deciso di intervenire o comunque se l'era presa e quindi aveva un periodo di tempo entro il quale poteva fare investimenti appunto per non turbare il mercato ed ecco perché vi ho parlato di una legge nazionale OpenFiber che invece era a base pubblica non ha potuto fare l'intervento questo non è dipeso certamente da delle scelte dell'amministrazione delle scelte del comune anzi abbiamo abbiamo spinto tantissimo in questo senso però quelle zone dove per dire già c'era team già c'era un operatore che aveva cattola FTTC cioè la fiber to the cabinet quella per dirci con gli armadi con gli armadietti e quindi con il doppino in rame finale che arrivava in casa quella faceva sì che quella zona che ce l'aveva era denominata zona grigia ed è ed è così ancora quindi la normativa non ha potuto permettere questo intervento ebbene il nostro impegno è quello che è già peraltro iniziato perché si è già iniziato a spingere e così stanno spingendo anche tanti altri territori con cui ci siamo relazionati sarà quello di spingere per ottenere che anche in queste zone lo stesso meraviglioso intervento di cui oggi possiamo godere quanto alle zone bianche possa essere steso e presto in realtà anche per quel che riguarda le zone grigie perché effettivamente siamo passati nelle nostre zone bianche che era più o meno il 80% del nostro territorio siamo passati da 0 a 100 in pochissimo tempo per questo vi dico che ora gli altri giustamente si sentono penalizzati perché se prima erano quelli leggermente più infortunati cioè chi era in zona bianca aveva 0 e loro avevano 15-20 ora loro rimangono con 15-20 mentre tutti i gatti hanno la possibilità di viaggiare a 100 questo è il primo degli impegni che ci prenderemo che ci prenderemo se la gente ci terrà fiducia ci prenderemo insieme tanti contatti sono già avviati e l'esperienza l'hai fatta quindi credo spero voglio sperare che ci restano insieme e già avevo detto che qualcuno avrebbe parlato un po' più specificamente riguardo almeno le deleghe più di competenza che ha trattato per la parte di programma a cui si è dedicato in particolare e del Marco Franchi io anche l'altra volta l'ho detto mi ripeto ma è un discorso che ho fatto già a momento della mia lezione scorsa perché da subito io dissi ho due colonne fianco a me due colonne importanti due sostegni che appunto mi tengono mi tengono e mi hanno tenuto dove sono con grande forza sono Marco Riccardo perché tanto lo sapete lo avevo lo avevo dichiarato pubblicamente perché la loro nella diversità delle loro competenze delle loro sensibilità dei loro pregi anche dei loro difetti come dice Marco perché avevamo Riccardo sempre in ritardo al telefono invece Marco molto puntuale ma anche puntiglioso e tante volte anche pesante nell'essere pressante e quindi eccoci pungolare in questo però tutto è servito per riuscire a dare qualcosa di equilibrato a tutti Marco ti lascio la parola grazie grazie Enrico ho preparato una presentazione naturalmente per chi mi conosce e anche per chi non mi conosce sono Marco Franchi ho 52 anni oggi e sono sposato anche Giulia anche Giulia oggi però si è nascosta perché il signore qualche volta si nascondono ma lei che è così giovane anzi lo può dire anche più di te sicuramente vi dicevo sono sposato abito a Stienta da sempre ho due figlie ho un diploma tecnico come perito meccanico sono un quadro d'azienda alla Cargill di Castelmassa dove svolgo attività di responsabile di area produttiva sono una persona determinata abituata a lavorare per obiettivi a dove prendere decisioni a rispettare budget a gestire personale questa è stata la prima cosa che mi ha portato già nel 2014 con Cristiano ad avvicinarmi a Stienta Tua per dare diciamo una mano dal punto di vista amministrativo a Stienta ho scelto di continuare con Stienta Tua perché perché in coerenza con lo spirito della squadra per proseguire con impegno l'attività amministrativa in modo trasparente semplice e partecipato al servizio del paese e della sua gente sono un accessore uscente di questa amministrazione con deliche alle politiche scolastiche per l'istruzione politiche culturali sociali sanitarie familiari politiche abitative per l'edilizia pubblica personale relazioni sindacali organizzazione buon funzionamento degli uffici e relazioni con il pubblico e aggiungo le varie ed eventuali lo legge che è la delega ha tenuto ha tenuto anche ha tenuto anche il taglio per ricordare i cangini della tv esatto però l'ha letto così l'elenco per farmi pesare che all'inizio mi ha detto fa eh mi è un po' troppo però poi passato quel momento lì invece delle volte eh arrivava a coprire qualsiasi cosa arrivava arrivava come come in tantissimi casi come è successo per praticamente tutti quelli che hanno condiviso questa esperienza quando c'era da fare non esistevano differenze assessori consiglieri non esistevano differenze tra deleghe non esisteva quello è tuo ci è sempre agito così tanto che tante volte quell'elenco lì è sparito possiamo dire ma è sparito non perché non si sia occupato nessuno di questo ma perché tutti insieme ci si è messo qualcosa affinché quelle cose fossero fatte quindi un'esperienza amministrativa che è iniziata quindi già dal 2014 con deleghe importanti pesanti e molto sentite dalla comunità stientese molte le cose fatte negli ultimi cinque anni che hanno permesso di mantenere e incrementare i servizi dell'ente senza togliere altri servizi senza aggiungere indebitamenti e molte sono le cose che abbiamo in programma di sviluppare nei prossimi cinque anni se ci sarà confermata la vostra fiducia ora vado ad elencarvi alcuni dei punti che secondo me sono realizzabili ok del nostro programma non nel libro dei sogni purtroppo quando ci si trova in un'amministrazione è inutile dire no ma noi le cose normali vogliamo fare noi vogliamo fare solo la progettazione purtroppo ci si trova a gestire il day by day anche e questo porta via molto tempo ok quindi molte volte ci si deve concentrare anche su questo e non si può pensare solo alla progettazione futura quindi dal punto di vista scuola e infanzia l'attenzione alla disponibilità nei confronti delle scuole del territorio è sempre stata elevata a partire dall'asilo nido comunale Coccole alla scuola primaria e secondaria di primo grado un dialogo continuo ed aperto con la dirigenza gli insegnanti gli alunni e le famiglie con l'obiettivo di soddisfare ogni esigenza in quest'ottica di agevolazione delle famiglie continueremo a garantire in collaborazione con la scuola e con le altre associazioni un servizio di assistenza dopo scuola e un servizio di entrata anticipata il progetto scuola potenziata verrà riproposto alla scuola non è mai stato un qualcosa di imposto ma è un qualcosa che noi ci mettiamo a disposizione della scuola e alle famiglie e sarà sempre un nostro impegno per favorire l'integrazione e lo sviluppo di ogni potenzialità di autonomia dei bambini e dei ragazzi diversamente abili continueremo a stimolare l'attività del consiglio comunale dei ragazzi mediante incontri periodici per definire e concordare azioni intensificheremo il rapporto col comitato genitori per dare sostegno alle importanti iniziative promosse per il bene dell'intera popolazione scolastica faciliteremo ulteriormente i sistemi di pagamento dei servizi quali ad esempio il trasporto scolastico mediante pagamenti rapidi e più agevoli con Pago.pia le nuove metodiche di pagamento sì perché c'è da dire che Marco in tempi non sospetti lavorò molto e spinse molto per le multi utility card che erano già un metodo di pagamento innovativo quando di obbligatorio non c'era non c'era niente ma è stato un servizio che è andato ad agevolare e a rendere più rapido ed efficace in questo il pagamento di questi servizi ora però c'è Pago.pia ci sono queste innovazioni qui peraltro saremo presto tenuti e Marco con gli uffici è già iniziato a lavorarci promuoveremo l'educazione civica nelle scuole favorendo in concomitanza con le importanti date della nostra storia nazionale e locale il 25 aprile il 2 giugno il 26 ottobre il 4 novembre eccetera momenti di approfondimento e riflessione anche in collaborazione con associazioni e l'università popolare l'asilo unido sarà valorizzato come servizio fondamentale sia per la sua funzione educativa sia per il sostegno alle famiglie l'obiettivo è quello di agevolare sempre di più le rette per i residenti continueremo a festeggiare i nuovi nati i diciottenni gli studenti meritevoli i neoloreati con giornate dedicate daremo vita all'albo dei laureati che sarà certamente celebrativo dei meriti degli studenti ma che sarà anche un importante strumento per condividere dare evidenza e opportunità ai nostri giovani entrati in possesso di tale titolo e che si affacciano al mondo del lavoro per quanto riguarda i servizi alla persona più ampiamente come salute sanità disabilità e cultura con il fine di migliorare la qualità di vita degli stientesi ci adopereremo per soddisfare sempre più i bisogni dei cittadini mediante un'efficiente ed efficace rete di servizio alle persone la costituzione di una rete integrata di servizi sociali sanitari e culturali ha lo scopo di promuovere condizioni di benessere e inclusione nella comunità delle persone e delle famiglie così da prevenire ridurre e rimuovere situazioni di disagio dovute a condizioni economiche psicosociali ed altre forme di fragilità i servizi sociali del nostro comune saranno potenziati per dare aiuto alle fasce deboli della nostra comunità in particolare agli anziani non autosufficienti e disabili favoriremo l'inserimento nella scuola del lavoro e nelle attività sportive e ricreative delle persone diversamente mobili rafforzeremo i servizi di assistenza domiciliare il servizio di consegna a pasti e di mobilità attività di trasporto e accompagnamento attraverso la disponibilità di volontari e qui faccio un appello comunque pubblico a chi volesse avvicinarsi alla nostra associazione ex protezione civile comunque distienta di volontari per il trasporto pubblico abbiamo bisogno di volontari e questo è un appello pubblico che ho sentito anche ieri sera da parte diciamo dell'altra lista per quanto riguarda la loro presentazione sono già iniziati anche alcuni incontri su stimolo su stimolo anche che abbiamo che abbiamo peraltro condiviso con i consiglieri con i consiglieri di minoranza e quello può e deve essere uno stimolo ma non per forza per delle specifiche attività ma anche una disponibilità più generica e anche più limitata può essere una di quelle gocce che per il paese indipendentemente da quello che sarà però potrà fare la differenza valorizzeremo ulteriormente il nuovo regolamento dei servizi sociali che prevede la modalità con cui l'amministrazione comunale interviene nell'ambito dei bisogni dei cittadini più svantaggiati due le peculiarità del nostro regolamento l'importanza e la centralità dell'assistenza sociale nella scelta degli interventi nella verifica dei casi e nella promozione di interventi di welfare generativo che tramite progetti specifici per la persona permette di aiutare con contributi chi si adopera in lavori socialmente utili questo importante traguardo è stato possibile grazie anche alla collaborazione tra gli uffici dei servizi sociali e alla persona dei comuni distinte occhio bello all'interno della convenzione dei servizi in essere tra le due amministrazioni continueremo a finanziare i progetti di pubblica utilità sì ecco scusa Marco una delle scelte politiche visto che di politica piace parlare una delle scelte politiche ma nel senso puro cioè quella di fare effettivamente scelte per guardare in avanti noi l'abbiamo declinata in questo senso ci siamo proprio come organo politico spogliati di un potere proprio perché non volevamo che fosse il politico a scegliere dove e come intervenire in questi settori così delicati in questi settori in cui invece serviva e serve la scelta consapevole basata sulla competenza ed ecco perché il nuovo regolamento dei servizi sociali è una grande conquista è un documento di cui non si sono adottati forse neanche tanti comuni anche con più grandi possibilità di noi invece il comune distinto l'ha avuto l'ha avuto da quando Marco si è messo lì testa bassa per riuscire ad ottenere questo risultato oggi tutto passa in maniera assolutamente tecnica assolutamente trasparente attraverso le scelte di chi ha le competenze per farle e non attraverso le scelte del politico che ogni volta si crede di essere quello che può meglio scegliere di chiunque altro e invece tante volte non è così limitando anche lo spazio non solo per noi oggi ma anche per tutti quelli che verranno limitando dicevo lo spazio di quelle scelte che possono essere anche inficiate da interessi che non sono quelli delle persone che hanno bisogno di questo servizio continueremo a cofinanziare progetti di pubblica utilità e per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutela promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione continueremo ad aderire al servizio civile nazionale una cosa che noi facciamo da sempre per favorire l'impiego di volontari nell'ambito dei servizi sociali e della biblioteca valorizzeremo la medicina di gruppo eridano medica che fornisce il servizio 5 giorni alla settimana dalle 8 alle 19 con l'ausilio di 6 medici personale amministrativo e infermieristico fornendo ulteriori servizi ai cittadini iniziative volte alla prevenzione vaccini antifluenzali e prelievi terapie per malati cronici servizi di diagnostica strumentale di base e numerosi altri servizi senza dover recarsi in ospedale proseguiremo il rapporto di fattiva ed efficace collaborazione e il lavoro di squadra con l'Ulss e con i medici del territorio in materia di prevenzione cura studio e informazione come fatto durante questa pandemia da covid-19 ieri sera sentivo parlare di un progetto dove all'interno della scuola entreranno degli educatori al posto di os per i bambini diversamente abili non è un progetto che è nato fuori dalla conferenza dei sindaci è un progetto che abbiamo voluto e abbiamo richiesto all'interno della conferenza e che quindi è stato un grande risultato ok perché avremo delle persone degli educatori che potranno intervenire nella scuola in modo corretto in base alle disabilità garantiremo costante attenzione e supporto al centro servizi sociali Villa Resemini per la crescita della struttura e di tutti i servizi da essere erogati continueremo l'opera di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture del paese e nella viabilità al fine di creare percorsi sicuri e funzionali proporremo a giovani adulti ed anziani eventi culturali diversificati e di qualità ma anche creando stimolanti occasioni di svago di divertimento e di socializzazione con il supporto del comitato biblioteca dell'università popolare dei gruppi culturali e le associazioni presenti sul territorio un'attività che non siamo riusciti a portare a compimento in questi ultimi due anni di pandemia noi due anni praticamente che siamo fermi con l'organizzazione di attività e di eventi ma che riproporremo è quella di valorizzazione dei nostri artisti stientesi più o meno noti con serate informative e pubbliche dedicate supporteremo la promozione della lettura la notte bianca delle biblioteche la serata con l'autore le maratone di lettura il Veneto legge libri infiniti nati per leggere e altri parteciperemo al premio città che legge perché vogliamo riuscire ad ottenerlo e proporremo la sottoscrizione del patto per la lettura che è già pronto agli enti e alle associazioni del territorio continueremo a promuovere il nostro territorio e le sue peculiarità attraverso la valorizzazione delle nostre specificità riconoscimento del marchio IGP della Pienza Lamunara istituzione di percorsi mirati in tema di enogastronomia arte locale e tradizioni popolari ci sono altri punti che poi verranno sicuramente illustrati successivamente ma che vorrei menzionare perché li sento vicini come 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 discussione come proposta volemo rivisitare il servizio biblioteca con la digitalizzazione dell'elenco dei volumi disponibili per una piena fruibilità digitale del servizio rilanceremo l'internet point e creeremo un parco della biblioteca dedicato sistemeremo l'archivio storico comunale si predisporrà uno spazio ludoteca e si darà l'avvio a corsi di informatica per i meno giovani non voglio star qua ad elencare me le ero segnate tutte le attività culturali che questo comune ha fatto negli ultimi anni visto che qualcuno ieri sera e questo mi ha fatto molto male ha detto che Stienta non ha fatto nulla per la cultura fino adesso se andiamo ad elencare tutte le attività che abbiamo fatto fino adesso di cultura negli ultimi 5 anni vedrete che tutto quello che è stato detto che non è stato fatto è stato invece fatto quindi concludo ringraziandovi per l'attenzione e vorrei inoltre cogliere l'occasione per ringraziare il sindaco ferrarese e tutti i miei colleghi amministratori assessori e consiglieri con i quali mediante il lavoro di squadra la volontà la disponibilità reciproca la determinazione al risultato e la pazienza siamo riusciti in questi 5 anni a raggiungere tanti traguardi per il nostro paese e per la nostra comunità siamo quindi qui per continuare con voi il nostro percorso e andare se lo vorrete sempre avanti con Stienta 2 Enrico Ferrarese sindaco grazie grazie Marco fa sentire in maniera calda e viva sulla pelle quanto queste persone si siano dedicate al lavoro quasi ci fanno qualche problema anche solo a dare un minimo di risposta a quello che ci viene dall'esterno però due cose una appunto la specificazione che ha voluto solo introdurre molto pacatamente perché lo potete verificare lo avete potuto verificare ma lo potete anche sentire nelle sensazioni nelle valutazioni delle persone che vivono Stienta anche venendo da fuori e delle persone che con Stienta si sono relazionate e vedere che cosa è stato fatto dal punto di vista degli eventi dal punto di vista della cultura a Stienta oltre che vedere sentire e chiedere a chi non è di Stienta che può guardare con un occhio diciamo così più obiettivo che cosa è diventata Stienta agli occhi degli altri fuori per vedere quanto è stata vera intensa la partecipazione di Stienta non solo nell'organizzazione di quello che dal punto di vista territoriale si sta cercando di far crescere e quindi la promozione del territorio e questo grazie ovviamente non solo alla nostra presenza costante la mia che è stata sempre così ma anche grazie alla presenza costante di tanti di loro che non hanno mai fatto mancare questo apporto se voi andate anche a chiedere solo in distretto o in conferenza dei sindaci andate a vedere quanti paesi non sono mai mancati ad una conferenza dei sindaci Allora quando vengo quando sento io tendo ad essere molto molto pacato però quando sento che ci si fa appunto su queste cose vi dico molto probabilmente non state valutando la realtà e sicuramente non state facendo un confronto con lo storico precedente perché effettivamente questo è quello che abbiamo come feedback da fuori ogni volta che qualcuno viene a portare eventi a Stienta ci dice non abbiamo mai trovato ma non solo qui nello storico precedente non abbiamo mai trovato una disponibilità non si costante una presenza vera una collaborazione fattiva come abbiamo con la vostra amministrazione e questo per noi è veramente un orgoglio non ce ne portiamo dentro tanti e non ci vantiamo di tante cose però provate a chiedere qualcuno di voi credo che potrà avere avuto modo di parlare con qualcuno di sentire se effettivamente questa cosa di Stienta ora la si pensa anche in cose molto molto pregnanti ripeto io sono andato a parlare della conferenza dei sindaci perché è proprio una di quelle cose che ci fanno notare tutte le volte perché semmai semmai dicono non c'è Stienta quando vanno a leggere sanno che perché devo arrivare io perché io delle volte 5-10 minuti di ritardo c'è l'ora perché invece lui arriva 10 minuti prima lui capiscono che non c'era lui ma che ci dovevo andare io al massimo quello è l'unico dubbio che possono avere ma Stienta c'è c'è sempre stata almeno in questi ultimi anni altra puntualizzazione che faccio è quella relativa alla medicina di gruppo ho dato solo delle precisazioni delle spiegazioni l'altra volta che riguardano l'oggettività cioè quello che è una medicina di gruppo e su quali presupposti è fondata allora medicina di gruppo che è quella che siamo riusciti a ottenere e che è un grande risultato sulla base del quale non ci sarebbe da fare alcuna delle considerazioni che adesso si stanno facendo ovvero se possa o non possa essere un servizio positivamente valutabile non so di che cosa stiamo parlando cioè il fatto di portare la medicina di gruppo in un paese come il nostro in quel momento storico dove cominciavano a tirarsi giù le serande su questo tipo di iniziative è stata una grandissima vittoria e io ricordo che nel momento dell'apertura della medicina di gruppo lo ricordo perché lo sento lo sento adesso sulla pelle che Marco Franchi mentre eravamo lì davanti si era messo un po' in disparte perché stava piangendo per farvi capire che cos'era e che è stata sentita e che cos'è questo risultato ora oggi sentirlo porcare da alcune considerazioni che non hanno nulla a che fare con la volontà di quell'operazione mi sembra veramente troppo anche perché quello è uno di quei risultati che colleghi sindaci mi dicono me l'hanno detto recentemente qualcuno mi ha detto avete fatto io da fuori vedo avete fatto due cose siete arrivati vi siete trovati in mezzo all'acqua adesso il problema non c'è più avete aperto la medicina di gruppo sai cosa potevi fare potevi metterti le mani in tasca chiuderti la giacca e stare seduto perché in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe stato sufficiente per farvi dire avete fatto allora che adesso debba essere così a noi non ci è passato neanche per la testa perché noi le abbiamo già praticamente dimenticate quelle cose lì se non per portarle avanti per renderle migliori però che possa essere messo in discussione un risultato come quello andate a chiedere da tutte le altre parti se non la vorrebbero e andate a chiedere che cosa vuol dire anche per quelli dei paesi vicini vedere che cosa che cosa sta accadendo qui ora fermo restando che effettivamente la medicina di gruppo e qui vi vado a spiegare proprio che cos'è la medicina di gruppo che non dipende da delle scelte nostre la medicina di gruppo nasce su questo presupposto i servizi infermieristici amministrativi di supporto e tutte le attività correlate che vengono fatte all'interno della struttura sono assolutamente strettamente legate ai medici che afferiscono a quella medicina di gruppo quindi tot medici tot ore di infermieri cioè tot ore di quei medici tot risultati di quei medici a questo corrispondono tot infermieri tot amministrativi e tot servizi ok quindi il lavoro di quei medici al lavoro di quei medici corrispondono tanti servizi correlati aggiuntivi che sono quelli che rendono la medicina di gruppo non solo la somma dei valori dei medici ma molto di più cioè quello che US mette a disposizione della comunità per questo nella comunità questo è assolutamente un bene da preservare è un bene da coltivare è un bene da aiutare ed ecco perché effettivamente anche l'amministrazione per quanto riguarda alcune spese dà una mano dà una mano affinché questo servizio possa rimanere in piedi e possa rimanere a stinta perché avercelo portato il risultato e riuscire a mantenerlo ogni giorno ha portato il risultato così dobbiamo dire che effettivamente ed è sostanzialmente la legge che lo dice noi che cosa abbiamo fatto ci siamo sempre chiesti abbiamo spinto abbiamo collaborato con i medici ma anche con la casa di riposo affinché i servizi potessero essere messi a disposizione anche di quelle persone che nel territorio non hanno il medico distinto cioè non hanno il medico che si dice in ambito a stinta nel senso che se voi avete il medico di quelli che sono in ambito a stiente che afferiscono a medicina di gruppo sicuramente potete usufruire dei servizi se libera scelta il medico lo prendete da un'altra parte cioè un medico in ambito a Occhiobello in ambito a Rovigo o in ambito a Milano è una libera scelta la si può fare però non si possono avere i servizi correlati e aggiuntivi di cui tanto bene si parla che sono quelli della medicina di gruppo io non sto a dire che questo sia giusto che sia sbagliato sto solo dicendo che è così quindi chi fa una valutazione di questo genere per criticare l'amministrazione probabilmente non ha capito da dove arriva da dove arriva il discorso e come è effettivamente dal punto di vista oggettivo noi non ci siamo fermati neanche lì perché non è che siamo gli amministratori le gulei che stanno a guardare che cosa è giusto che cosa non è giusto quindi se è così è così no ci siamo messi noi per primo fin dal primo giorno a spingere affinché anche perché noi abbiamo i cittadini distritte indipendentemente da dove hanno il medico indipendentemente dal servizio noi vogliamo che quel servizio possa arrivare a tutti ovviamente non possiamo fare le cose fuori dalla legge e abbiamo cercato di stimolare tutti i canali affinché questo possa diventare realtà ci stiamo provando lo stiamo facendo attraverso diverse attraverso diverse vie ma nel nostro programma abbiamo voluto metterlo perché siamo sicuri che riusciremo ad arrivare al risultato di questo genere per fare in modo che almeno quei servizi essenziali anche se non saranno poi magari tutti quelli che potranno avere quelli che hanno il medico perché insomma deve essere anche uno stimolo dove abbiamo i medici io non sto adesso ad andare a fare una polemica su come sia nata questa cosa però guardate effettivamente che tante volte questa discussione nasce proprio da chi sa o potrebbe sapere invece come sono andate le cose con i medici che c'erano con i medici che hanno lasciato con i medici che sono subentrati e tanti lo sanno soprattutto da dove vengono fuori le polemiche e quindi questo dà ancora più fastidio perché se devo poi andare su un altro terreno che è quello della polemica non ho paura di andarci non lo voglio fare solo perché la campagna elettorale per me non deve essere un momento di scontro ma deve essere solo un momento di confronto però attenzione perché la verità la sappiamo bene e quindi non fateci andare su altri livelli di discussione perché questa è la verità e altrettanto vero è l'impegno che abbiamo promesso e che lutteremo nel fare in modo che tutti i cittadini in distinta possono avere sempre più grandi e sempre più numerosi servizi anche in questo ambito vado avanti questo discorso delle sentinelle quando parlavo di Roando ma Ivan è un'altra delle grandi sentinelle a lui è stata fidata in particolare la delega riferita alle frazioni e quindi Zantine ha avuto la sua sentinella e devo dire come ho detto per Marco prima senza dire che questo sia un pregio o un difetto abbiamo sentito pesante pressante a volte con la durezza che lo contraddistingue che poi è tante volte la tua durezza di facciata e che invece noi abbiamo saputo scoprire come veramente solo un modo per essere un piovolo sempre costante ma che ha fatto tanto bene all'interno dell'amministrazione perché tu eri il primo e quando qualcosa non andava venivi lì a muso duro a dire le cose che non andavano poi con il tempo abbiamo imparato con noi certi ma abbiamo lo stesso rispettato quel pungolo perché abbiamo capito che ci aveva sempre fatto bene e speriamo che possa continuare a farlo io ringrazio Enrico Ferranese per le belle parole Enrico è una persona che ha cuore Enrico sa cogliere anche nel difetto di una persona quello che può trasformarsi in un pregio perciò non lo direi dopo e lo dico adesso io volevo stasera sfatare un mito un mito che riguarda le frazioni riguarda ma soprattutto le frazioni una frazione che io ritengo mia e sapete che mito voglio sfatare quello degli rocchi farti rosse cioè sapete perché le rocchi farti rosse cioè io sono dell'idea che oggi come oggi non sia stato si sente ancora posso posso andare avanti mi fermo per lo troppo forte per lo troppo bene non sia stata la realtà della divisione tra di loro che ha distrutto questa roccaforte rossa che loro chiamano la piccola russia no secondo me che ha sfatato questo mito sapete cosa è stato è stata l'infermazione perché quando io sono entrato in questa lista con Cristiano Corazzari Cristiano Corazzari che mi ha dato la forza e mi ha detto devi essere quello che sei io cosa ho fatto mi sono presentato nella prima casa con la paura di essere cacciato via con la paura di essere cacciato via come tanti avevano nella mia frazione perché non potevano dire ciò che pensavano ed invece ho notato una cosa nella mia frazione nella mia stinta in quelli che sono i cittadini che io oggi ho nel cuore che mi hanno aperto le porte che mi hanno offerto da bere che sono stati vicini a quella che era la mia ideologia una mia ideologia che sposava una politica ma non una politica che io portavo qui a stinta una politica che io portavo nel cuore cioè quello del fare quello che oggi il nostro sindaco sta portando avanti ed è lì che ho capito che la forza sapete dove viene dall'informazione e ho capito anche che se in alcun momento e le mani lo dimostrano perché non si può dire che non sia vero che da quando è stato delegato qualcuno per quella frazione i numeri sono cambiati perciò dimostrano che l'informazione ha portato la gente ad essere libera di pensare e di dire ciò che veramente poteva essere detto perciò con poche parole io non è che voglio essere cattivo perché io la faccio da duro ho una voce che magari può sembrare più cattiva di quella che io sono ma però sono fiela di essere vero e volevo dirvi una cosa tante volte quando parlo con qualcuno e quando scrivo tanti di voi l'avranno letto stinta non dormi più è per questo perché qualcuno ha tenuto la gente dormiente quando la gente si è svegliata e ha capito perché l'informazione è arrivata e io ringrazio l'informazione ringrazio i social ringrazio i giornali ringrazio chi oggi ha la possibilità di leggere un giornale per famiglia non come se facevano un tempo un giornale in sette poi se non andava bene in tutelo andava messo nel tassetto no oggi la gente può tirar fuori dal tassetto quei sogni chiamati libertà io vi ringrazio mi sono candidato perché sapete il perché perché dalle voce a quelli che sono i miei cittadini oggi sarà sempre una mia priorità viva stinta ciao un po' il microfono allora passiamo a Mauro Furini ciao buonasera a tutti ciao allora di Mauro ho già detto anche l'altra volta una cosa in particolare ma ripeto perché è uno di quei simboli di che cosa è questa squadra Mauro è uno di quelli che non c'era nella esperienza nella breve esperienza precedente quella che mi aveva fatto vivere appunto il periodo della regenza ma è stata una di quelle cose che porterò sempre nel cuore che mi rimarranno attaccate come simbolo del vero risultato cioè quello di essere arrivati alla gente con quello che avevo con quello che avevo in mente che poteva essere un giorno un lavoro un giorno un altro ma che voleva essere invece come poteva essere colta la disponibilità e come i cittadini potevano vederci dentro perché tante volte è facile farsi vedere come si è fuori ma che che la gente riesca a capire come sei dentro è una grandissima vittoria soprattutto se non hai paura di far vedere che cosa sei dentro e Mauro mi ha dato una delle più grosse soddisfazioni di questa esperienza amministrativa ma dal punto di vista umano anche posso dire della vita perché venne nel mio ufficio e mi disse io sono impegnato nel volontariato lo faccio con amore con passione mi piace e non riesco a stare senza però con quello che ho visto fare a voi con quello che ho sentito trasmettere da te sono qui e ti chiedo scusa anche sono qui a chiederti di poter fare qualcosa di più di mettermi a disposizione ancora di più per poter dare anche dal punto di vista amministrativo se lo vorrai o in qualsiasi maniera che vorrai per dirti sono a disposizione fammi fare qualcosa di più fammelo fare con te e ripeto la nostra conoscenza era ad un livello diciamo così normale ecco di rapporti di buoni rapporti e nulla di più questo mi ha mi ha riempito il cuore tanto che ho capito la genuinità delle sue parole dei suoi intenti e già da quel momento lì senza fare calcoli perché non li abbiamo mai fatti né nel fare le liste né nel presentarci né nel dire che cosa pensavamo né nel presentare i programmi senza fare calcoli ho detto non so come non so perché non so che cosa ma ero comunque benvenuto da oggi ti dico già benvenuto ed era un periodo di molto precedente a quello in cui normalmente ci si muove per costituire le liste prego grazie mille per le belle parole comunque si è la verità è questa qua per chi non mi conosce sono Mauro Frini sempre abitato a Stienta ho 56 anni e già dagli anni 80 faccio il volontario con le varie associazioni del paese sono volontario di Avis mi piace fare il volontario mi rende felice specialmente fare fare il volontariato e fare qualcosa di amministrativo anche in cima di questa squadra mi rende molto orgoglioso e per quello ho deciso di ricandidarmi perché noi non siamo non siamo amministratori siamo un gruppo di amici a cui sta a cuore il paese quindi facciamo le cose proprio a cuore senza senza cose nascoste senza oltre del sole di tutto quanto io sì mi occupo la delega mi ha andato la delega alle associazioni quindi insieme ho la collega Lorella Protto che ringrazio sempre per il supporto abbiamo cercato già dal 2016 dal primo anno di cercare di mettere un po' insieme le associazioni del paese farle collaborare e ci siamo messi a disposizione da tramite sia io che Lorella in modo a fare da collante tra l'amministrazione e le associazioni locali grazie a voi sono nate quelle riunioni che come ho detto l'altra volta si facevano si sono iniziate a fare anche senza il sindaco si chiamasse per dire dobbiamo trovarci tutti quanti al tavolo come associazioni hanno stimolato il nuovo modo di fare associazionismo e volontariato che è un percorso lungo e non è finito è per quello che sento un impegno anzi questi due anni quasi di covid hanno un po' interrotto questo percorso e tante volte si tende come tutti siamo diventati un po' più pigri nell'uscire nell'accettare l'invito all'evento è un po' successo anche nel mondo associativo e del volontariato tranne che in alcuni casi nei quali grazie appunto a queste persone in particolare le associazioni si sono trovate non per fare la festa della pinza non per fare la befana non per fare ma si sono trovate qua dentro qua dentro guardando l'orologio perché scattava allora coprifuoco ci sono trovate qua dentro anche stando attenti a qualsiasi cosa come toccare come mettersi una mascherina ma per confezionare le mascherine per decidere chi le portava in giro per andare a vedere se c'era qualcun altro che ci poteva dare una mano questo è stato fatto è stato fatto dalle associazioni e questo era quello che anche senza chiedere io sono riuscito a tenere da loro che si sono occupati di associazioni che si sono occupati di associazioni di volontariato non solo perché volevamo avere il rapporto noi come amministrazione con il volontariato e con le associazioni ma proprio perché la prima cosa che volevamo è che loro tra di loro iniziassero a dialogare perché non è sempre stato così e ancora c'è tanto da lavorare ed ecco perché immagino il loro sì è stato vero spontaneo mi ha risposto prima che io finissi la domanda esattamente infatti il percorso è ancora lungo hai citato prima il discorso delle mascherine del covid vorrei ringraziare tutti i volontari di protezione civile guarda ho detto quello non è che le spese a domicilio ma anche i servizi che sono stati fondamentali che hanno fatto vedere che la comunità ha potuto avvalersi di queste ricchezze di questa collaborazione insomma che è nata in futuro esatto vorremmo continuare a far collaborare queste associazioni e ripeto il lavoro è lungo non è qualche mancanza c'è ci sarà ancora sicuramente perché io non sono un amministratore nato sono un operaio quindi dedico il mio tempo a questo paese e spero insomma che grazie al vostro aiuto di poter continuare anche di Cimei L'Orella a portare avanti questo discorso e grazie soprattutto a tutte le associazioni del paese grazie Mauro sono contraddistuti anche da tanto di quel lavoro che non si vede che mi piacerebbe spiegarvi anche magari nel prossimo incontro ci sarà più occasione nel senso che oggi è giusto sentire dalla loro viva voce prima che io vi parli in maniera più specifica dei programmi perché poi come l'altra volta sono andato avanti due ore due ore e mezza prometto che non sei ancora stanco e invece mi stavo chiedendo se eravamo arrivati a metà comunque in ogni caso continuo a dare parola e voce ai nostri anzi mi dovete sopportare per alcuni altri secondi perché invece Davide Maghini come detto ha avuto un contrattetto gli facciamo migliori auguri ma Davide è uno è una delle nostre delle nostre new entry è il più giovane abbiamo voluto un 99 che poteva essere un 2000 volevamo una persona giovane perché avevamo capito che cinque anni fa potevamo essere vicini a tutti perché le sensibilità diverse le capacità le competenze diverse che hanno anche insomma un po' la fascia d'età ovviamente Rolando lo prendevamo in giro perché dicevamo un consigliere anziano e poi e poi c'era Giulia e le battute può essere tuo figlio può essere tuo nonno però questo questo ha sempre parlato della eterogeneità di tutto quello che ci stava dentro sia quanto competenze sia comprensione delle istanze delle varie parti della popolazione ma ci siamo anche resi conto che ovviamente crescono sempre nuovi giovani e noi stiamo cercando abbiamo cercato nonostante il periodo della pandemia abbia reso più complicato tutto questo di coinvolgerli l'apertura del piglio che è stato tra l'altro l'unico nostro parco a rimanere chiuso perché per il resto anche se anche se in tanti altri casi anche vicino a noi i parchi non sono stati messi a disposizione qui con qualche sport in più si è riusciti però il piglio è rimasto chiuso perché gli sport di contatto a un certo punto non erano proprio tenessi e lì dentro in particolare ci si andava a fare quello e ci è pianto il cuore perché aveva appena fatto un intervento che lo ha rimodernato lo ha stravolto lo ha ravvivato e lo doveva rendere vivo appena abbiamo potuto abbiamo aperto abbiamo fatto uno secchio alle normative e alle disposizioni particolari relativi al covid ma l'abbiamo fatto con i ragazzi li abbiamo presi dai bar li abbiamo presi da giù quando aprivo la finestra per dire dovete farlo con noi e uno dei primi ad alzare la mano a dire se ci sono è proprio stato Davide Davide che io conoscevo perché l'ho avuto nel momento in cui allenando a calcio l'ho avuto per alcuni momenti ma peraltro l'avevo conosciuto quando allenavo invece il suo fratello e lui aveva tre anni e questo è una cosa di quelle che mi ricordano anche a casa e che mi dicono ma quello era quel bambino che aveva tre anni e tu allenavi il fratello sì è vero sono vecchio ma mi si vede perché anche Ivan me lo dice di capelli mi avevo di più e adesso tanti sono bianchi per cui quell'allora allenatore di 37 anni che si presentava adesso ne ha 42 ha perso gran parte dei capelli ma ha messo tanto della sua vita in attività amministrativa ma vicino il giovane serviva a qualcuno che potesse sapere invece veramente che cosa vogliono perché noi vogliamo dialogare con tutti ed ecco perché Davide ecco perché lui che è una persona veramente attiva che riesce a farsi capire e che riesce soprattutto prima di tutto a capire perché vogliamo vorremmo questo da lui capire le istanze dei giovani perché possono essere veramente rappresentate in un piano dell'amministrazione quindi passiamo a Riccardo Riccardo Malabasi ho già introdotto prima mentre vale vale anche per noi perché ognuno con le sue peculiarità prima abbiamo ricordato anche i difetti tu condividi con me anzi riesci a farmi soccondere anche di fronte a questo però ti sei fatto perdonare anche alcuni anche alcuni ritardi perché sei tutto sommato un vero grande uomo di sostanza e l'hai fatto vedere ti sei fatto apprezzare non solo a Stienta ma anche fuori tanto che Stienta con orgoglio ha la sua rappresentanza all'interno del GAL e questo è un orgoglio non solo nostro ma deve essere anche tuo personale perché ti è stato riconosciuto la tua competenza soprattutto in determinati settori che oggi più che mai possono diventare importanti per Stienta come anche per tutto il territorio perché stiamo ragionando ovviamente con anche le altre amministrazioni con gli altri enti di un sviluppo che non può essere legato solo al nostro del nostro paese ma anzi di poterci avvalere dello sviluppo di tutto il Polesine per rendere migliori i nostri paesi e tu stai diventando parte insomma di quell'ingranaggio proprio grazie anche al riconoscimento che ti è stato dato e che è un riconoscimento che sentiamo come un riconoscimento per Stienta Buonasera a tutti credo mi conosciate tutti comunque sono Riccardo Malavasi abito a Stienta da sempre ho sposato due figli e nella vita mi occupo di istruzione in quanto insegno l'istituto tecnico agrario di Rovigo sono un avvocato di opera professionista e ovviamente mi occupo di agricoltura nell'azienda agricola di famiglia io ho aggerito credo ancora ai tempi della Costituente al progetto di Stienta Tua quella con Cristiano quindi insomma di strada ne è stata fatta tanta e ringrazio Enrico per la fiducia che mi ha dato in questi anni conferendomi delle deleghe importanti se non raggiunta e fiducia che è stata sicuramente ripagata da un percorso di crescita importante e reciproca io nella nella giunta come assessore e vice sindaco ho avuto le deleghe relative all'urbanistica l'edilizia privata rapporti con le società partecipate e agricoltura andando per ordine quindi rispettando questi quattro referati volevo fare un po' anche il punto della situazione perché magari sono temi a volte meno dibattuti meno noti al grande pubblico relativi appunto all'urbanistica all'edilizia quindi lo sviluppo infrastrutturale del nostro comune il comune di Stienta dispone di un PAT approvato quindi piano d'ambito territoriale dal gennaio 2015 il PAT è quello che una volta noi chiamavamo PRG è uno strumento urbanistico che permette lo sviluppo coordinato armonico regolato del nostro territorio sia sotto il profilo quindi strade urbanizzazioni ed edificazioni da dicembre 2015 è stato approvato anche il piano degli interventi che quindi è quell'ulteriore strumento che permette proprio di rendere il PAT esecutivo nel 2017 e nel 2018 sono state approvate due varianti al piano degli interventi cosa vuol dire? vuol dire che sono state determinate quelle che saranno in futuro le aree urbanizzabili è in corso tuttora la terza variante al piano degli interventi che è quella dove i privati secondo le loro necessità hanno chiesto alla commissione competente e al comune di apportare quelle che possono essere delle varianti proprio a livello applicativo del PAT cosa prevede? Quale sarà lo sviluppo diciamo del nostro tessuto urbano del nostro comune sicuramente il nostro centro urbano è noto a tutti ha 3 2 2 2,5 limiti fisici che le condizioni non lo sviluppo il PAT da una parte il cimitero dall'altra la strada la strada di Dania sappiamo che rappresenta un po' un certo filtro una certa barriera quello che è proprio lo sviluppo dell'area urbana ma che comunque non è priva di interventi in ambito edilizi quindi è ovvio che il nostro centro è destinato a svilupparsi verso ovest quindi nella zona successiva al campo sportivo è quella che è la lottizzazione meglio nota come Martinella Zana che è stata oggetto di quello che è stato uno dei nostri primi più importanti interventi in ambito di lavori pubblici la famosa soluzione del problema degli allagamenti problema persistente fin da lontano 1996 e che è stato risolto grazie alla collaborazione e questo segna quanto sia importante il rapporto con le società partecipate in questo caso consorzio di bonifica e l'allora presineaco oraco venete che ha permesso un'azione coordinata assieme all'intervento di un privato che in cambio di una corrisponsione di una somma economica per effetto di un'urbanizzazione ha compensato i lavori per realizzare quello che è poi il bacino di raminazione quindi di quel grande definiamolo fossato ma è quasi improprio che ha quindi il compito di assorbire attraverso l'apposita canalizzazione che è stata realizzata quella che può essere ormai meglio nota come bomba d'acqua quindi funge da come dire come ammortizzatore quindi incassa riceve il surplus di acqua e va piano piano la rende nella rete scolante che è stata predisposta e risezionata perché era già esistente in quello che poi è lo scolo mafei e quindi di conseguenza restituisce le acque in eccesso allo sgrondo per effetto del consorzio di bonifica in futuro allora secondo l'attuale vigente hai parlato del rapporto con questi enti in particolare in questo caso non sono stati enti erogatori di contributi perché quei soldi come ben detto sono soldi che sono arrivati dal bilancio del comune e sono arrivati da fondi propri io l'ho fatto anche l'altra volta all'appunto ma lo ripeto e lo ribadisco non ne abbiamo mai parlato in cinque anni perché eravamo concentrati a fare le cose però quando poi veniamo diciamo così stimolati su alcuni argomenti bisogna che diciamo tutto quanto tutto quanto ciò che abbiamo trovato e che sappiamo cioè che oggi noi non avremmo neanche potuto farli i debiti non siamo mai entrati con questa con questa dinamica e con quest'ottica perché il comune distinta in questi cinque anni di mutui non ha fatto neanche un euro ha fatto tutti i lavori che ha fatto tutte le opere che vedete tutta la gestione è stata fatta proprio grazie a una sana programmazione di bilancio che ci ha non solo di bilancio tecnica e di bilancio che ci ha permesso appunto avendo la programmazione avendo la progettazione di riuscire a intercettare i contributi ad hoc quando era ora e questo ci ha permesso di farle le opere senza andare in banca senza mettere sulle spalle di nessuno un euro in più di debito perché certamente si può andare a valutare l'idea che potessero essere investimenti sì forse in alcuni casi potevano essere idealmente degli investimenti ma di fatto sono stati dei debiti che hanno avuto anche e che hanno continuano a avere dei passi che continuano a pesare sulle spalle di tutti noi in particolare se solo parliamo Alessandra aiutami ma degli ultimi 25 anni precedenti al nostro al nostro arrivo parliamo di qualcosa come 5 milioni e 700 più o meno 5 milioni e 700 mila euro di mutui tradotto di debiti fatti per fare le opere mica nessuno ha detto che sono stati fatti per fare qualcosa altro ma in 5 anni le opere le cose che avete visto le cose di cui abbiamo solo limitatamente parlato stasera perché stiamo parlando di persone ma tutto quello che è stato sostanza tutto quello che è stato opere tutto quello che è stato servizi cioè il mantenimento di tutti i servizi che c'erano il crescimento degli stessi il rinnovamento l'aggiunta di nuovi servizi tutto quello è arrivato e sta continuando ad esistere grazie ad una buona programmazione ad una buona amministrazione che fa sì che le cose si facciano nel momento in cui abbiamo i soldi ma riusciamo a farle proprio anche quando servono perché le abbiamo già progettate le abbiamo già viste sentite e studiate prima quindi questo è il nostro modo di fare di fare amministrazione quindi alcune cose in alcuni momenti possono arrivare anche a dare fastidio ma quando si guarda con le carte alla mano e quando avremo modo certamente di vedere in maniera più specifica di che cosa stiamo parlando delle singole opere allora riusciremo a vedere carte alla mano che cosa è stato speso che cosa si è fatto e anche in che modo noi abbiamo progettato questo programma amministrativo che vi presentiamo adesso in che modo l'abbiamo fatto cioè come diceva prima Marco non il libro dei sogni ma appunto qualcosa di già di già conosciuto e che per il 70 75% buono noi sappiamo essere già già cantierabile tra virgolette non dico domani ma ovviamente con la sequenza che verrà e che stiamo e che stiamo progettando questo per dirvi che Riccardo ha parlato dei rapporti con gli enti che sono importantissimi perché proprio i rapporti con gli enti erogatori di contributi ci hanno permesso questa politica questa politica che ha fatto sì che Stienta abbia avuto gli stessi servizi di prima e tanti aggiuntivi senza che come invece prima succedeva si facessero dei debiti che poi sono rimasti sulle spalle di tutti e ancora rimarranno al metto del fatto che noi nonostante alcuni anni di sospensione del pagamento dei nutri dal momento del sisma di cui abbiamo beneficiato in realtà per il 100% non noi ma chi c'era prima di noi ma da lì in poi si è cominciato a pagare per quote e oggi stiamo pagando quasi l'intero quindi assolutamente dei debiti che non abbiamo fatto li abbiamo anche pagati oltre a fare tutte le altre cose che vedete e che avete visto per cui invece per quelle di un piso che sono stati fatti in zero vado avanti allora guardiamo più avanti quello che sarà un po' la stienza del futuro allora secondo i parametri definiti dalla vigente legge regionale sul consumo del suolo al comune di Stienta viene assegnata da una superficie pari a 14 ettari di superficie urbanizzabile che ovviamente non siamo costretti e obbligati a farlo però questa è la disponibilità che viene assegnata al nostro comune finché questa legge è vigente 14 ettari significa 140.000 metri quadrati non sono pochi e questi vengono destinati sia onicomprensivi di edilizia pubblica che edilizia produttiva questo sicuramente può essere una grande attrattiva per il nostro territorio in futuro e vi faccio un esempio che vi farà capire quanto significa e quanto sia consistente questa somma un comune vicino molto vicino confinante e molto più grande di noi gli viene riconosciuto una superficie pare a 9 ettari perché chiaramente loro negli anni precedenti hanno consumato molto più solo di noi e questo può far capire quanto sicuramente in un futuro non immediato ma magari un po' più lontano quanto il nostro territorio potrebbe essere attrattivo di nuovi insediamenti una proposta che io ho inserito fortemente nel programma sempre in ambito di edilizia privata e ufficio tecnico è la digitalizzazione delle pratiche edilizie questo è un periodo sicuramente importante per il settore di edilizia in generale in quanto con le agevolazioni fiscali i vari bonus che vengono riconosciuti a chi permette un miglioramento energetico del proprio edificio delle proprie strutture dei propri mobili di proprietà ha uno sgrabio fiscale importante che può monetizzare ovviamente attraverso l'accessione del credito ovviamente interpellando anche l'ufficio competente l'ufficio tecnico competente il suo carico di lavoro è aumentato in maniera consistente cosa significa digitalizzare l'archivio delle pratiche edilizie significa che in questo caso il tecnico caricato in un tempo infinitamente inferiore all'attuale può consegnare al citovino la pratica l'autorizzazione di dizia per fare i propri lavori significa evitare di siccome in ogni pratica di dizia si deve richiamare tutti i precedenti interventi che vengono fatti sull'immobile oggetto della domanda e quindi in questo caso il tecnico deve fare tutta una ricerca ritroso su materiale cartaceo ok per completare istruire e completare la domanda andando a digitalizzare tutta questa massa cartacea su un supporto informatico certificato cosa significa certificato significa ferrofacente ovvero come la firma digitale come la firma elettronica cioè è conforme originale non c'è bisogno di autenticazione quindi adesso per una pratica di dizia si possono aspettare anche mesi delle volte soprattutto quando ci sono degli interventi sul piano di interventi delle variazioni delle richieste sul piano di interventi in questo caso andiamo ad accorciare in maniera veramente consistente quindi conferendo al cittadino un servizio non da poco tenete presente che pochissimi comuni oggi sono in grado di offrire questo servizio e attraverso un investimento che per carità non è un investimento da poco ma neanche una somma impossibile noi saremo in grado di fermare questo servizio proseguendo io mi sono occupato in prima battuta e insomma ci tengo a precisarlo sull'estarlo della casa Romani allora per tracciare i bilanci bisogna capire sempre da che punto si è partiti quando noi abbiamo aperto il fascicolo della casa Romani abbiamo trovato e questo è documentabile io non amo esprimere tanti giudizi ma infatti abbiamo trovato un progetto dell'architetto Giuseppe Donegà che poi è stato il tecnico incaricato anche della direzione dei lavori bellissimo progetto abbiamo trovato una richiesta di finanziamento respinta ok respinta dalla BEPA e quindi tante belle idee ma soldi zero oh alla fine quello che è stato è stato l'opera è stata realizzata con 200.000 euro ottenuti dal GAU che inizialmente ce ne sono stati assegnati 140.000 e 60.000 euro di avanzo dal bilancio del comune quindi noi nel 2000 fine 2014 inizio 15 potremmo dire al nostro caro amico Pier Maria caro Pier Maria la tua è un'idea nobile di altissimo spessore sociale ma noi non abbiamo un becco di coltrino clienti le chiavi della tua casa e amici come prima ovviamente ci siamo rimboccati le maniche e siamo arrivati dove siamo arrivati quindi quella struttura al netto degli oneri contrattuali a favore del soggetto donante è una struttura pubblica a tutti gli effetti perché è stata finanziata dal primo l'ultimo centesimo con soldi pubblici e quindi come ho appena detto fermo restando gli accordi che intendiamo rispettare e onorare pienamente sarà una struttura per la comunità distinta chiaro? peraltro questo va anche detto è nelle intenzioni che abbiamo condiviso con Pier Maria di fare in modo che ovviamente anche per noi non solo è un onere non solo è stato un vincolo perché lo è stato dal punto di vista contrattuale quello di far sì che la casa Romani potesse e dovesse ospitare paese reale quindi almeno una parte di esposizione comunque anche un'esposizione che cambierà nel tempo proprio perché a lui sarà lasciata anche quella parte di gestione e abbiamo condiviso soprattutto in particolare l'idea che dovesse essere a disposizione di tutti non solo degli spientesi speriamo anche di tutti gli altri che vorranno venire a vederla poi su quello che sarà adesso cominceremo a vedere qualcosa perché non la inaugureremo perché altrimenti poi già cinque anni fa si avevano in mente si avevano in mente i nastri che tagliavamo avevamo fatte in un anno più di cose di quelle cose che non si erano neanche mai viste immaginate per tre nastri tagliati insomma c'era stata un po' di polemica ma a noi interessa non inaugurarla ci interessa aprirla ci interessa che sia a disposizione un altro dei grandi esempi era stato questa qua una polemica perché era stata aperta era stata lasciata chiusa per anni perché forse non si sa quali altri interessi c'erano non farla aprire è diventato un gioiello di grandissima utilità per la nostra comunità e non abbiamo voluto perdere un giorno avevamo fatto tutto in un anno e in un anno ne sono state fatte abbiamo aperto questa così vogliamo che sia aperta quanto prima quella là la apriamo proprio in un'occasione in cui non andiamo a aprirla noi ma la facciamo aprire alle associazioni e quindi indipendentemente da quello che sarà e abbiamo progetti grandi e ancora più grandi da condividere che stiamo già iniziando a condividere anche con Pier Maria stesso perché cosa dovrà essere Casa Romani ma non sarà solo e soltanto quello proprio perché ha la nostra comunità con quell'immobile che già è un risultato grandissimo ma averlo recuperato è un risultato anche solo che si capisce anche solo andando in piazza a vedere che cosa c'è anche se dovesse rimanere chiuso ma non è la nostra intenzione lo vogliamo aprire aprire il prima possibile e mettere a disposizione della comunità e un giorno crescerà e diventerà anche qualcosa che potrà autosostenersi all'interno del nostro paese e anzi poter richiamare anche le persone intanto per il momento ha come deve avere e come vogliamo che abbia lì la collocazione di paese reale perché nasce da stienta ed è fatta non per gli stientesi ma fatta proprio con gli stientesi e quindi è assolutamente una finalità che condividiamo ovviamente tutto questo ci deve tenere legato alla funzione pubblica che deve continuare ad avere e la disponibilità che deve essere per i cittadini tutti continuo pure due cosine e concludo ovviamente c'è la quarta delega che quella relativa all'agricoltura purtroppo sappiamo bene che un comune soprattutto un comune piccolo poco può incidere nelle dinamiche politiche ed economiche del settore primario allora io amo fare una distinzione se parliamo di agricoltura sotto il profilo bucolico poetico della valle dei sogni degli slogan di circostanza va bene ma se dobbiamo parlarne seriamente il discorso è un po' diverso i problemi dell'agricoltura sono noti sicuramente non possiamo intervenire sui mercati internazionali non possiamo intervenire sulle dinamiche di mercato dove gli operatori spesso sono soggetti completamente estranei a questo settore come amministrazione però siamo sempre intervenuti qualora per esempio c'erano delle problematiche relative alla sicurezza idraulica abbiamo ottenuto dei risultati grazie non solo a una fattiva collaborazione con il consorso di umanifica ma a una stima reciproca che esiste che è nata e che perdura tra la divigenza e i vertici del consorso e questa amministrazione abbiamo inoltre tanti interventi sono stati fatti assieme come gli interventi sullo sponde del cavo e poi in argine dove sempre con risorse dell'amministrazione sono stati pagati i materiali e poi grazie al rapporto con appunto il consorzio invece loro hanno messo i lavori e quindi si è potuto intervenire e intervenire in più in più casi in più realtà del paese i problemi sicuramente più attuali relativi al settore dell'agricoltura quindi tralasciando l'affronto economico che è assolutamente fuorviante in questa sede sono le avversità atmosferiche sono le nuove forme parassitarie che sono giunte per effetto della circolazione delle merci o anche del cambiamento climatico e quant'altro quindi ecco il mio impegno sarà destinato in questo settore a rinforzare i rapporti con il servizio fisso sanitario regionale per far sì che per agevolare e contribuire nella ricerca nello studio nella ricerca di questi nuovi nemici che stanno fortemente compromettendo le produzioni soprattutto quelle ortofrutticole per le quali non è al di là delle storie che ci raccontano non sono tuttora presenti strumenti di lotta di contenimento e quindi la comunità scientifica deve ancora fare molto e l'ultimo anzi l'ultimo e non l'ultimo concludo sia come amministratore che anche come privato cittadino penso di essermi abbastanza speso per la per i lavori per agevolare i lavori la riapertura della nostra amata chiesa di San Genesio andiamo avanti il nostro come ha detto Mauro siamo un gruppo di amici alla fine con massimo rispetto reciproco penso di che non abbiamo mai parlato di politica qui nessuno sa cosa vota l'altro ve lo posso garantire speriamo che la gente apprezzi tutto questo grazie Patrizio Marsala altro grande motivo di soddisfazione perché una persona che è stata attiva non solo per quelle che sono le sue competenze in realtà che sono tante e sono quelle che fondamentalmente hanno fatto sì che noi potessimo vedere e guardare a lui come una persona che poteva dare davvero tanto al nostro progetto e al nostro paese ma anche proprio perché con la sua sensibilità e con la sua capacità la sua voglia che ha dimostrato anche negli ultimi tempi di essere a contatto con le associazioni ci ha fatto vedere che forse quella scintilla quella voglia viva ce l'aveva ce l'aveva anche lui e questo ci ha fatto sì che ci ha fatto capire che forse ci stava comunando qualcosa e che era il momento di di imbastire qualche discorso un po' più da approfondire beh fuori 20 giorni fa io e te cioè ci sono tornati a strada parlavamo degli eventi di come erano avvenuti di che cosa era successo e ci siamo cominciati a capire 20 giorni fa io sono insegnante di scienze notorie da quarantina d'anni alleno da 40 anni vedo qua qualche mio ex atleta qualche mia ex atleta mi fa sempre piacere rimangare i buoni momenti trascorsi in palestra a stietta e voglio portare sono un donatore Avis dal 2000 quindi anche io sono poi Mauro sa benissimo che non sono dell'Avis a stietta sa anche motivi per cui voglio portare a stietta un progetto di testa notoria fatto dalla mia società dove lavoro questo mi ha fatto parlare con Enrico mi ha fatto presente la situazione degli impianti sportivi di stietta e qual è l'offerta motoria da lì è nata questa idea di poterlo affiancare in questa avventura io non sono non ho nessun trascorso politico sono stato in giunta a stietta negli anni 80 quindi secoli fa per cui non ho nessuna nulla nulla da dirvi del mio passato sono qua come tecnico cercando di ottimizzare l'offerta che può essere quella di stietta per attività motoria dai bambini valutando bene quali sono le loro peculiarità le loro caratteristiche fino alla terza fino alla quarta età la mia società è l'unica precedente dico ad avere una squadra dei setting volley quindi lavoriamo anche con i ragazzi disabili abbiamo strutturato il palazzetto Don Cristiano sa perché ogni tanto viene a trovarsi non ci sembra dire che dei toni che abbiamo strutturato le voce perché anche gli eserci è anche una di quelle cose che ci ha fatto inumorare di te da questo punto di vista perché quando abbiamo cominciato a parlare di sport mi hai voluto sottolineare questa cosa e quindi la sensibilità che hai dimostrato anche nel semplice parlare che era assolutamente al di fuori di ogni progettualità che ancora non era neanche immaginata ci era capito che questa sensibilità poteva veramente arricchirci e arricchire il nostro percorso il nostro progetto questo lo voglio dire perché ti rende onore ti fa onore perché lo hai fatto il discorso a me e lo hai fatto quando non c'entrava niente di tutto questo infatti nessuna intenzione non sapevo di questa opportunità oltretutto assieme a noi ha lavorato in questo progetto la ragazza che forse qualcuno di voi ha visto per televisione per le Olimpiadi Nadia Balla che era la nostra capitana della squadra e niente mi sono annunciato qua come tecnico cercando di ottimizzare le offerte sportive e non solo sportive ma anche ricreative ma anche socializzanti del comune nostro comune e per un vecchio sogno che avevo fatto ancora a tempo passimo per voi della istituzione di una ludoteca che potrebbe essere collegata a biblioteca e dare spazio anche ai bambini più giovani e avvicinarli anche alla lettura che in questo momento storico è abbastanza trascurato per altri ci sono persone che ci tengono e che anche loro di fuori di tutti i percorsi che qualcuno immagina e vagheggia invece erano discorsi fatti nella sostanza del trovarsi in piazza perché in piazza c'era come noi e ha saputo viverla e ha saputo cogliere effettivamente sia quello che stava succedendo sia i bisogni e abbiamo parlato anche con altri che tu ben conosci di queste possibilità legate all'istituzione di una lodoteca e di altre attività ricreative perché a questo ci dovremmo dedicare soprattutto nella speranza uscendo da questo periodo bruttissimo che stiamo vivendo da questo punto di vista per essere pronti a delle proposte veramente di livello io non ho altro dire se quello che ho fatto sono un docente nazionale FIPPAP siamo un gruppo di insegnanti che formano due notori in provincia da Vigo siamo in due siamo 280 in Italia quindi c'è un aggiornamento costante continuo a livello nazionale e volontario AVI cerco solo portare la mia conoscenza e quello che ritengo sia la mia competenza al servizio del mio paese insomma grazie buonasera a tutti sono Riccardo Pavanelli spero che insomma mi conoscono un po' tutti quanti sono l'istinta anche se da qualche anno per motivi insomma nel frattempo mi sono sposato e quindi ho trovato a casa a Chiudello però dico sempre anche a mia moglie se sto bene a Chiudello si sta bene in un bel paese però il mio cuore è stinta ci sarà un po' di campanilismo però purtroppo o purtroppo insomma non è purtroppo mi sento stintese e lo sarò sempre sembra che sia passato pochissimo in verità è passato sono passati tanti anni da quando mi sono candidato quando Cristiano mi ha chiamato e mi ha dato la sua fiducia insomma in me non so probabilmente ha visto in me una persona che poteva dare qualcosa per il proprio paese e lo ringrazio mi ricordo che quando ci siamo candidati appunto con Cristiano sono stato vicino a te nella tua delega alle associazioni e da lì ho imparato da te e quindi ti faccio un elogio a come ci si può rapportare con le persone e come si può fare per il paese non ma si potrebbe fare la mia idea è questa no faccio la mia idea è questa e la faccio la faccio quando? subito ovviamente nei limiti del possibile è per quello che sembra che si è passato il corpo perché l'abbiamo impiegato tutto nel per dire che di cose ne sono state fatte veramente tante io sono nato qua ho i miei genitori ho i miei famigli ho i miei parenti e io penso che da quando sono ragazzino io tutte queste cose qua in poco tempo non 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 l'avevo mai viste vuol dire che ci siamo impegnati tutti quanti vuol dire anche che siamo fatta la sticella che dobbiamo continuare a farne ma di farne anche di più questo è il nostro intento è la nostra promessa a me ti ho sempre detto mi piace che ci chiamiamo lista noi siamo un gruppo un gruppo di amici nelle difficoltà ci siamo sempre sostenuti a vicenda e in primis tu stesso ci sei sentato vicino e quindi ti ringrazio per questa cosa qua anche perché ultimamente io ho avuto miei problemi insomma lavorativi eccetera in questo momento qua sono operatore di vendita per un'importante azienda di termina graudica e il territorio è rubato parecchio e quindi perché la zona mia di lavoro è tutta questa quindi qua vado a Porosella fino a Castelmassa e guardando tutti i vari paesi mi fermo a stinta e vedo ripeto magari c'è il cuore ma vedo stinta una vita diversa ci vedo partecipazione vedo molti felici contenti e questo è un'ulteriore cosa in più perché mi fa dire cavolo veramente abbiamo fatto tanto siamo stati bravi bisogna dirci le cose adesso noi ci prendiamo qualche merito così per dire ma io lo lascio lo lascio proprio a voi a voi che avete lavorato senza avere magari anche la prima fila la passerella che talvolta un sindaco ha e che pare che sia la cosa la cosa principale perché invece dietro c'è tantissimo lavoro e spesso lo hanno fatto questi ragazzi magari proprio mentre erano in giro per lavorare hanno mescolato la loro vita con l'essere amministratore non hanno dedicato solo i dieci minuti solo la mezz'ora solo l'ora la mezza giornata in cui sono venuti qui ma hanno cominciato a sentirlo addosso sulla pelle perché quando appunto ci siamo trovati in quell'esperienza particolare di doverci riorganizzare lì ci siamo dati una mano tutti e lì è nata la sostanza del gruppo che non ci ha fatto differenziare più di tanto è come quando io ho avuto nello stesso momento la nascita del figlio l'esame d'avvocato e tutto quello che era capitato per qualche mese ho potuto dare qualche cosa di meno c'era qualcuno che ha dato qualcosa di più che si è cavato anche la pelle per farlo io questo non l'ho dimenticato ed è per questo che ho detto se io vado avanti se io ci sono ci dovete essere anche voi qualche cambio fisiologico normale qualcuno che invece che essersi spostato di un chilometro si è spostato un po' di più qualcuno che invece che avere un figlio ne ha avuti tre e allora questo può cambiare le cose ma siamo rimasti sempre sempre una squadra che non vogliamo rimanere in proposito è quello di continuare a darsi a spendersi con tutto quello che abbiamo per la nostra comunità hai avuto anche il peso della quella bellissima cosa che come ho detto l'altra volta è un simbolo quello della casetta dell'acqua ma è un simbolo solo del nostro piacere di dare di fare sì che Stienta abbia anche solo un servizio in più penso che era il primo punto della nostra però invece in realtà avevamo già lavorato anche con le associazioni con la nascita del rapporto con la protezione civile il gruppo volontario di protezione civile di Occhiebello e Stienta è una delle prime cose che facciamo io da assessore con la tua collaborazione come consigliere che comunque aveva le associazioni io avevo anche la protezione civile e lì è nato qualcosa che oggi è diventato irrinunciabile per il paese di Stienta un'altra grande vittoria un altro grande risultato che abbiamo voluto e l'abbiamo voluto come hai detto te proprio non l'abbiamo pensato l'abbiamo voluto e l'abbiamo fatto subito ci siamo fermati magari questa giornata perché ragionavamo su una parola sull'altra e lui ci dice che la facciamo e quindi siamo andati avanti ce l'abbiamo siamo felici di averla anzi ne crescono la famiglia cresce ancora perché adesso c'è anche c'è anche ANC dopo abbiamo una convenzione anche con l'associazione nazionale carabinieri quindi non ci siamo fermati nonostante anche da questo punto di vista abbiamo cercato di far crescere la famiglia del volontariato e dell'associazione perché sentiamo che questa è una vera ricchezza per il territorio da soli come amministratori non facciamo niente io sono sì spesso in comune ma cerco di essere giù anche sulla piazza cerco di parlare con le persone perché solo se c'è la partecipazione di tutti in particolare dei gruppi organizzati che sanno darsi e prendersi le responsabilità il paese può crescere può fare qualcosa io ho notato continuo a notare che c'è la voglia di collaborare tante volte i periodi difficili dal punto di vista economico dal punto di vista del covid ci hanno messo in difficoltà ma io sento la voglia di partecipare la vedo l'ho vista la sto notando Mauro adesso era lì che era combattuto perché ho detto magari quando ho finito di parlare io vado perché c'è casa Romani che dobbiamo ancora finire di sistemare ma l'altro giorno dentro nella casa Romani c'era il Cias cioè che non hanno mandato gli operai c'era il presidente e il vicepresidente dei Cias dentro a lavorare a portare hanno portato tavola hanno portato le sedie hanno portato dei video oggi c'era la ditta che montava i proiettori eravamo lì tutti a guardare ma c'era stato solo 24 ore prima invece c'era Zanella che stava che stava avvitando le sedie questo farà sì e ha fatto sì che casa Romani domani sarà pronta per essere aperta con tutto quello che vuol dire che non è solo quello che vedrete la straordinaria opera di Pier Maria il bel restauro che è stato fatto il grande recupero che è stato fatto ma dentro c'è la ditta del GAL che arriva a Stienta e che avrà un ufficio dentro lì e diventerà il punto di riferimento nel medio 8 polesine e sarà fatto e sarà fatto Stienta ci sarà un ufficio che sarà che sarà a disposizione del GAL lì e poi dentro che cosa ci sarà il Cias diventerà anche la sala per le riunioni del Cias perché il Cias non ci sarà dentro solo quelle due volte all'anno che farà con la riunione ma c'è stato già adesso prima ancora che si potesse aprire c'è stato con il lavoro c'è stato con la voglia di dire sì vogliamo essere vogliamo partecipare allora questo noi lo dobbiamo saper cogliere dobbiamo non solo lasciare lo spazio ma dobbiamo cercare di coinvolgere ancora di più tutti faccio solo un collegamento perché con il Cias ovviamente non c'è solo il Cias non ha messo a disposizione solo questa prima usata come simbolo della partecipazione ma anche della vera collaborazione su alcuni aspetti fondamentali nella vita del paese e anche quelli che possono parlare del potenziale sviluppo economico del nostro paese perché qualche anno fa ci siamo incontrati ci siamo guardati e abbiamo trovato la soluzione per fare in modo che fosse stimolata la possibilità di ampliare gli investimenti all'interno dell'area abbiamo trovato da subito assieme a una soluzione che non era facile tanto che il vicepresidente che sono presenti lo possono anche confermare anche da fuori e ci hanno detto bella l'operazione che avete fatto bella bellissima e lì dopo l'apertura appunto di una manifestazione di interesse che poteva appunto toccare e tutti quelli che l'interesse lo adessero il Cias prendendo la palla al basso è riuscito a fare un intervento che con la collaborazione dell'amministrazione che ha voluto che per equazione al posto di 100 arrivassero 25 e in più che cosa ha detto il sindaco io quei 25 non li voglio neanche monetizzare facciamo opere là dentro e abbiamo deciso insieme sono state fatte là dentro sono state fatte per la viabilità sono state fatte per la sicurezza con questo vogliamo andare avanti perché l'amministrazione non la facciamo noi da soli la facciamo solo ed unicamente con la vostra collaborazione con la collaborazione in particolare di chi ha più la sensibilità e la capacità organizzativa per dire se siamo qui e indipendentemente dai colori indipendentemente dalle nostre sensibilità siamo qui per fare per il nostro paese perché aspettare tempo non ci porterà niente siamo qui per fare e come ha detto bene Riccardo ci siamo sempre sentiti qui per fare adesso non dopo grazie vorrei dire due cose le ultime le due cose dato che siamo un gruppo vorrei ricordare che insieme al gruppo è stato fondamentale l'aiuto della Marina e dell'Alessandra che abbiamo qua e mi sembra di più o meno maestro allora noi le avevamo tenute alla fine dopo i consiglieri perché prima c'è stato anche l'accenno al fatto di sentirsi tecnici qui dentro ma io penso che ci siamo sentiti tutti quanti dentro da una parte con il cuore e dall'altra parte ci siamo sentiti tutti investiti di un ruolo tecnico per quello che era la mansione che ci siamo voluti all'interno di questo discorso c'è anche quello dell'assessorato dei due assessorati esterni che questa amministrazione ha avuto che sono appunto quello relativo alle pari opportunità gestito da Marina che è qui davanti a me e che io come l'altra volta ho fatto un chiusura di appuntamento all'altra volta ho voluto sottolineare come e proprio qui mi aggancio al discorso che ho appena fatto la vera il vero risultato il vero grande traguardo raggiunto è stata la capacità di fare relazioni perché c'è stata della qualità nel approfondire nell'avere degli appuntamenti di qualità nel riuscire a relazionarsi verso l'esterno con le pari opportunità in particolare con quella provinciale con la sensibilità sui temi che è stata in grado anche di produrre veramente degli ottimi risultati ma che cosa è stato fatto di grande che non era richiesto e che probabilmente poteva accadere solo a stietta e solo con certe persone che lì si è creato un gruppo che ha stimolato altre persone a partecipare anche dove non era necessario anche dove nessuno era chiamato a fare quello che hanno fatto loro perché le appette come anche noi quando prendiamo un giro diciamo perché loro hanno il simbolo e si sono ricostritte il simbolo erano lì tutte le volte erano lì tutte le volte anche solo non solo che ci fosse da parlare di tutti i temi grandissimi di tutti i grandissimi temi che avete trattato ma anche quando c'era da lavorare quando c'era da portare i fiori quando c'era da preparare da mangiare e l'hanno fatto l'hanno voluto fare creando un gruppo creando un gruppo che ho dovuto anche frenarlo a un certo punto e ho detto boh perché guarda che siete una commissione che nasce come commissione consigliare non ha fatto quello quello che era il dovuto ma come tutti noi hanno cercato di fare di più e questo è stato un grandissimo risultato che aveva riconosciuto in particolare a Marina che ha presieduto questa commissione e che ha guidato il gruppo che in seno con la commissione è nato e poi Alessandra perché io l'ho detto anche a te ho fatto uno dei grandi risultati prima appunto parlando di meriti a me è interessato poco dire e questa sera non ve li hanno ancora detti forse ora che arriviamo a fine campagna elettorale farò un tempo a dirvele tutte le cose che sono state fatte a farvi un elenco in modo che ripercorriamo tutti e ci richiamiamo la memoria quelle cose che adesso qualcuno finge di non ricordare o che adesso qualcuno non può ricordare perché semplicemente o non c'era o la piazza anche se c'era non l'ha mai vissuta ma allora questo è un giorno ve le dirò ma forse non facciamo neanche in tempo perché siamo concentrati più a dirvi chi siamo e che cosa vogliamo fare Alessandra è uno dei pochi meriti che invece mi prendo realmente e qui anche a costo di sembrare qualcuno che vuole qualcosa di più no vi dico il merito che mi prendo per Alessandra è che l'ho fortemente voluta l'ho fortemente voluta non per ragioni politiche altra cosa che qualcuno magari può dire ma perché quello lì io so che secondo me vota a destra vota a sinistra intanto vi chiarisco una cosa io non mi rivolgo solo alla destra o centro o alla sinistra mi sto rivolgendo tutti quanti perché intendo veramente non dal giorno dopo in cui sarò eletto se sarò eletto a dire sarò il sindaco di tutti sono il candidato che si rivolge a tutti poi la sensibilità di ciascuno gli farà capire e vedere se lo vuole che il nostro approccio non ve lo sto spendendo come qualcosa che potete immaginare ma forse sarà vero adesso dice così no penso che lo abbiate visto in 5 anni più uno che ho fatto e quindi come ho detto in quest'ottica è andata la scelta di Alessandra che Alessandra è stata assessora al bilancio ci ha permesso quella programmazione quella progettazione che ha unito il tecnico e l'aspetto del bilancio perché Alessandra è uno dei pochi professionisti di quel settore prestati all'amministrazione perché quel lavoro che lei deve controllare gestire valutare e stimolare come assessore è lo stesso lavoro che fa in altri enti e quindi è proprio la persona più adatta specifica per riuscire a trattare assieme agli uffici tutti gli aspetti che riguardano il bilancio e che permette a me e a noi altri amministratori in particolare alla giunta di riuscire veramente a progettare non solo le cose come idee fumose che poi devono sempre trovare riscontro dal punto di vista del bilancio perché la persona che ci dice se le cose si possono fare e come si possono fare da quel punto di vista ce l'abbiamo e ce l'abbiamo in mezzo a noi e questa è una grande fortuna questo è uno dei pochi meriti che mi prendo di averla portata a stienza che ha avuto in questi cinque anni un assessore appositamente dedicato e assolutamente competente dal punto di vista tecnico che poi ci abbia messo il cuore perché quando era ora di festa della pinza quando era ora di pari opportunità e ci sia stata anche per quello quello non avevamo dubbi neanche quando l'abbiamo chiamata però poi si è fatta prendere anche lei anche lei anche lei dalla squadra e quindi grazie grazie a Marina e grazie a Lassone andiamo avanti perché io ho fatto tardi l'altra volta che avevo parlato da solo però stiamo andando avanti anche adesso che vi sto facendo solo conoscere i nostri candidati Lorella Trotto che secondo me vi ruberà meno tempo perché anzi non vedrà l'ora di scappare non di scappare via perché è l'ultima che se ne va perché quando c'è da fare qualcosa è veramente l'ultima che se ne va però se c'è da parlare anzi ti sto un po' più vicino perché se mi cade in giro ho paura io leggo allora buonasera sono Lorella Trotto originaria di Sernive ma abito a Stienza da 20 anni sono sposata e un figlio ho iniziato col volontariato non ho strutturato assieme ad altre mamme questo ci permetteva di fare gruppo ma anche di dare il nostro contributo per le scuole di Stienza sono una donna lavoratrice conosco le problematiche del mondo femminile e dell'essere lavoratrice madri lavoro per una grande azienda e questo impiego occupa gran parte della mia giornata ma questo non ha mai spento la voglia di fare volontariato alcuni ancora si chiedono come tu possa fare io anche io delle volte delle volte me lo chiedo chi mi conosce sa che non sono una persona di molte parole preferisco dedicarmi a fatti e agazioni concrete sono quello l'avevo l'avevo indovinato che senza sapere del tuo discorso sono una volontaria molto attiva soprattutto con la nostra Proloco Stienza cinque anni fa ho aderito al progetto Stienza Tua e per la prima volta ho vissuto un ruolo di rappresentanza amministrativa che non solo mi ha permesso di continuare la mia grande passione di fondo ma anche di vederla sotto una luce nuova ancora più inclusiva ho deciso di continuare a far parte di Stienza Tua perché mi è stato dato modo di vivere qualcosa di vero e per far sì che ciò che è stato condiviso e costruito in questi cinque anni pieni di lavoro e soddisfazione possa avere continuazione a beneficio del nostro paese vedere le associazioni di collaborare per i vari progetti proposti quali la Cielo Solidale il primo anno siamo andati nell'ambito del terremoto della non emozionarti però dai che è quasi finito non emozionarti dai siamo andati e abbiamo portato il nostro contributo a caccia no alla vendita poi abbiamo anche abbiamo sostenuto la scuola potenziata e anche lì sono nati i rapporti che esistono tuttora perché vengono a trovarci anche nei vari appuntamenti proprio le persone che abbiamo conosciuto là e che vengono anche i nostri mercatini e che hanno continuato ad avere con noi questo tipo di rapporto poi come ha già detto Mauro abbiamo partecipato anche alla preparazione e alla distribuzione delle mascherine alla preparazione delle spese durante la pandemia però anche nelle singole manifestazioni ed è stato un nostro punto d'orgoglio idee ne abbiamo ancora molte e spero che con la vostra fiducia si potrà mettere in pratica metterle in pratica grazie grazie Lorella dobbiamo anche stare attenti dobbiamo anche stare attenti perché ne parlavo prima anche con il presidente dell'associazione che poi ci sviene la perdiamo che dopo per recuperarla ci vuole dopo perché veramente si dedica tantissimo poi lo sente in maniera tale per cui è spesso lì ad emozionarsi e quindi bisogna farle fare cose e lei va come un treno come sempre andate e quindi immagino che quella sarà la sua promessa anche per il futuro se vorrete dare fiducia ed ora Ilaria Zamberlan buonasera a tutti sono Ilaria Zamberlan sono medico mi sto specializzando in medicina nucleare a Kona se sei lontano puoi togliere la mascherina se vuoi perché quanto sei lontano ti piace ma preferisco così va bene sarò breve e sono facilitata essendo l'ultima perché tutto quello che hanno detto loro mi serve per dirvi che io cinque anni fa avevo scelto stentatua scrivendolo proprio dico io scelgo stentatua perché scelgo sempre il meglio in questi cinque anni passati è stato fatto tanto è stato fatto bene è stato fatto del bello del buono ok quindi io qui quest'anno dico è stato dato nuovo lustro perché è quello che secondo me abbiamo fatto siamo brillanti quindi un nuovo lustro me lo auguro anche per i prossimi cinque anni serve serve a noi serve a noi come comunità e quindi votateci continuate a votarci e supportarci perché ne abbiamo bisogno tutti siamo bravi e andiamo avanti sempre avanti così grazie grazie